Salve tutti ragazzi, sono sempre Menzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo tornati qui con la carriera, allenatore con il nostro Colchester. Buona domenica ragazzi, come state? Spero che vada tutto per il meglio. Come al solito prima di cominciare, signori, vi invito magari a, dopo questo video, ad andare a controllare sul canale se ci fosse qualche video che vi siete persi, perché in questi giorni stanno uscendo veramente, veramente tantissimi video e vi consiglio quello dedicato alla mia postazione da gaming. È iniziata una nuova serie, quindi vi consiglio assolutamente di andare a dare un'occhiata a quel video. Ci tengo particolarmente. Oggi, ragazzi, video molto importante, perché come potete vedere abbiamo il Manchester United in Carabao e poi finiamo assolutamente settembre e iniziamo ottobre. Quindi si gioca, ragazzi, si gioca, ma le emozioni sono tante perché due episodi fa siamo andati molto bene, un episodio fa invece l'episodio scorso. Diciamo che non è stato un grande episodio per niente. E quindi vediamo oggi cosa ci aspetta. Ci aspetta un episodio più semplice, ci aspetta un episodio complicato. Sicuramente partire con il Manchester United non è la cosa migliore. Poi sembra che dobbiamo sempre incontrare il Manchester United. Io non capisco per quale motivo. Comunque, vediamo un po' che formazione fare. Io, sinceramente, farei un po' di cambietti, eh. Onestamente un po' di cambietti li farei. Fuori Wood, dentro Weir. Sulla destra, Taffari Moore, Ikei, vanno benissimo. Cambierei forse Stevenson oggi. È arrivato il turno di Impanzu. Ci portiamo dietro assolutamente Longstuff. Per quanto riguarda l'attacco, invece, metterei titolare Clark Harris insieme a Sabby, mentre sulla destra farei giocare Johnstone. Andrei in campo così, signori, per questa partita contro il Manchester United. Sempre sul pezzo. E forza Colchester. Siamo a Rashford. Ferguson in chiusura. Sarà un diavolo da tenere Rashford. Avers si torna da Marcus Rashford. Weir. Buona presa di tempo, buona chiusura. Possiamo ripartire con Johnstone. Attenzione perché Chilwell è uscito dalla posizione in maniera trasandata, mi verrebbe da dire. Johnstone. Oh, 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 raga. Raga, raga, fai Johnstone. Sì, oggi pensavo l'avessi parata De Gea. 1-0 col Chester. Johnstone. Sull'errore di Chilwell, che lascia un'autostrada al nostro esterno. Mamma mia, De Gea male anche. De Gea decisamente molto male, ragazzi. Guardate qui. Questa è una... Papera. Se consideriamo che nello scorso episodio abbiamo fatto realmente molta fatica a segnare. inaspettatissimo questo gol. Dai, ma ragazzi. Attenzione qui ad Odgaard. Ike insegue. Odgaard la mette in mezzo. Jerken di pugno. Ma c'è ancora il Manchester United con Garner. E... E... Palla nostra. Ok. Guardate come spingono, raga. Sono in tantissimi in fase offensiva. Martial. Averz. Mamma Weir. Oh, 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 oh. Ma dai, ma guarda... Che cosa fate? Che cosa fate? Per l'amor del cielo. Avete fatto qualcosa di incredibile. Dovete rovinare tutto. Perché c'è Weir che è partito? Non mi interessa. Vai a fare gol, Weir. Johnston. Johnston. Mettila bene in mezzo. Esattamente. Finisci con il primo tempo, ragazzi. È incredibile come praticamente ci sia stato un tiro nel primo tempo. Il nostro. Con gol. Per il resto basta. Solo quello. Solo quello. Siamo avanti 1-0. A me va bene così per il momento. Allora, c'è Taffarimur che sta... decedendo. E Johnston, che è stanchino, io, onestamente, fare entrare Cedric. Facciamo entrare Cedric al posto di Taffarimur. Attenzione, signor. Vinci un contrasto contro Vambisaka. Signore, veloce. Vambisaka altrettanto, ma... A vantaggio, signor. Può metterla in mezzo dove c'è Johnston. Che non tira. La paresta lì dopo che Claire Harris la tocca. Non ci credo, Maguire. Attenzione, perché ci siamo ancora noi. Ci prova Sub in qualche modo. Con una finta. Clark Harris la fa scivolare. Ma Vambisaka questa volta capisce tutto. Io non ci voglio credere, raga. Ero stato anche concentrato con Clark Harris per provare a piazzarla, ma... Qualcuno l'ha fermata. Porca miseria. Allora, signori. È arrivato il momento di fare un altro cambio. Io toglierei Johnston e metterei Lawrence. Panzo. Occhio a Clark Harris. Di nuovo. Di nuovo. Atterra Clark Harris. Fallo di Maguire. Dentro Anderson. Dentro Anderson. Per battere questa punizione. Ci proviamo. VANDERSON! VANDERSON! 2-0! Partita chiusa! Passiamo il turno! Con questo gioiello di Anderson! Ogni tiro è un gol da pulizione per lui. Anderson! Mamma, dove l'ha messa? Dove l'ha messa? Imparabile per De Gea. Piano piano, lento lento questo tiro. Guardate lì, che rincorsa! E come la colpisce, raga. Quasi di piatto. Imparabile. Per De Gea. Come scende questa palla. Che fenomeno che è Patrick Anderson, ragazzi. Che fenomeno che è. Finisce qua, signori. Il Colchester batte 2-0 il Manchester United. E passa il turno. Un Manchester United che onestamente ho trovato molto forte difensivamente a centrocampo. Mentre è molto spento in attacco. Non era assolutamente il Manchester United che tutti noi conosciamo. Mentre, a parte questo errore di Chilwell, per il resto sono stati realmente perfetti. Ci hanno chiuso spesso. Però ci sono stati veramente molto bravi anche noi. Perché i meriti vanno dati agli avversari. Ma vanno dati anche... Cioè, ogni tanto ce li dobbiamo prendere anche noi, i meriti, cavolo. Oggi abbiamo giocato veramente molto bene. E mi sta stupendo, ragazzi. Tantissimo Weir. È migliorato molto. È migliorato molto. Posso assolutamente contare su di lui. Uh, che partita che abbiamo adesso, raga. Giocatore infortunato. 5 giorni da fare in Moore. Dai, fortunatamente non è nulla di grave. Aveva una partita molto importante. Direi contro la prima in classifica, giusto? Il Brentford in casa. Vediamo un attimo. Seconda in classifica. Perché lo Sheffield 8 vittorie, un pareggio. Quindi siamo contro la seconda in classifica. Allora, per quanto riguarda l'11 titolare, abbiamo Cedric che è un cambio forzato. Torna la coppia Portius Wood. Hickey, come al solito, sempre presente. Io farei giocare di nuovo Johnstone. Sabbie Scott per quanto riguarda la coppia d'attacco. Vediamo che ci portiamo dietro. Mi porto dietro assolutamente Longstuff. Al posto di Eastman. E per il momento diamo in capo così, signori. Sempre sul pezzo. E forza Colchester. Attenzione a Hickey. Che porcata che ha fatto. Ma ancora Wood sempre in mezzo. E poi Woodman la blocca. Attenzione perché possiamo ripartire. Il rinvio per Poku è perfetto. Il controllo altrettanto perfetto. Sabbie, fa andare Kwame. Attenzione a Poku. Prende il tempo a Thompson. Torna però Thompson. Poku. Può metterla in mezzo. Dove c'è Johnstone? Ci prova di testa. Gunnarsson. Spravo in una rovesciata, onestamente, ragazzi. Copre bene Gunnarsson. Ma se facessi battere i calci d'angoli a qualcun altro. Tipo Johnstone. Attenzione a Portius. Colpisce bene. Ancora Wood. Che se la va a prendere a centrocampo, praticamente. Sabbie, ragazzi. Dobbiamo assolutamente sfruttarle in queste occasioni. Scott col destro. Ancora Gunnarsson. E poi Johnstone ci prova. Credo di aver sbagliato totalmente io. Speravo di aver fatto... Di aver preso la testa del difensore. Invece niente. Anche questo primo tempo molto equilibrato. Il Brentford si sta comportando molto meglio del Manchester United. Credo. Onestamente. Di poterlo dire. E io rimango così. Assolutamente. Ferguson. Dai che l'ho visto. Ti prego Poku. Beh, questo è fallo. Mi scusi. Ma scusi. Ma direttore di gara. Ma è fallo quello lì. No? No? Non c'è stata l'aspita da dietro? Me la devo dare io a spita da dietro? Eh? Mortacci tua. Ma chiamo Jerken. Attenzione a Beumo. Mokoccio. Ma che nomi hanno questi? Me ne sono accorto adesso. Hickey. Sabbi. Ehi, ehi, ehi. Il Brentford sta iniziando a salire parecchio, ragazzi. Dobbiamo cercare di prenderli incontro piede. E faccio così. Non so se faccio la cosa giusta, ma fuori Scott. Johnstone va a fare la seconda punta. A sinistra, a sinistra, Lawrence. E tolgo anche Ferguson. E dentro, Longstaff. Primi due cambi. Occhio al Brentford con Irwood. Portius in qualche modo. E c'è l'1-0 del Brentford con Canos. Al 69. Non siamo riusciti a fermarli. Sono riusciti a insidiarsi al centro. Peccato, peccato, peccato. Perché questo vantaggio, onestamente, non è molto meritato. Ma qua i nostri difensori centrali si sono mossi così, così. Portius un pochettino più duro, magari, la prossima volta. Come il tuo compagno Wood. Comunque, arrivano adesso i cambi. Forse è troppo tardi. Non lo so. Attenzione con l'errore del Brentford. Forse possiamo ancora crederci, ragazzi. Johnstone braccato in seguito. Madonna, ragazzi. Si fiondano contro i miei giocatori come se fossero dei ladri. È dura uscire dalla morsa del pressing in questa maniera. Ok, sì. Boom. Buonanotte, vecchio mio. Stevenson. Allarga tutto dalle parti di Poku. Questo passaggio abbastanza buggato, però mi è piaciuto. Sabbi, c'è il movimento di Johnstone. Gli ultimi minuti, ragazzi. Non teniamo la concentrazione alta. E sbagliamo realmente troppo. Bravo Lawrence qua. Però guardate. Guardate che passaggio è. Doveva essere un filtrante per Sabbi. Veramente troppi errori. Ma ci siamo ancora noi. Qualcuno ci crede ancora. Sabbi. Johnstone. Palla per Lawrence. Vediamo se riusciamo ad andarcene. No, Paceco ci aspetta lì. E finisce qua, signori. Perdiamo contro il Brentford. 1-0. Dopo l'ottima prestazione contro il United. Cadiamo ancora in campionato. Veramente molto complicata la faccenda qua, ragazzi. Oggi la vittoria per il Brentford è realmente larga. Anche 1-0. Non meritava la vittoria, molto semplicemente. Ma contro queste squadre così di alta classifica, secondo me, ci può anche stare. Può capitare, ragazzi. È un momento strano, ragazzi. È un momento strano. Veramente altalenante. Non riusciamo a trovare la quadra. Là davanti stiamo faticando. Perché i difensori quest'anno delle squadre avversarie, i difensori sono realmente tosti da passare. Però, insomma, dai. Calmi. Calmi. Vedete, Sabbi è calato. Non sta più segnando. E adesso siamo contro lo Sheffield, direi. Sheffield Wednesday si dovrebbe chiamare quella squadra lì. Che è fattibile, raga, eh. Vrebbe essere fattibile, perché a 7 punti noi non è che ne abbiamo molti di più. Però, insomma, dai. Si può fare. Si può assolutamente fare. Forza e coraggio. Andiamo a fare gli allenamenti. Vediamo chi può crescere. Allora, ho fatto crescere Sabbi negli scorsi allenamenti. Quindi direi di toglierlo. Attenzione, però. C'è il senior che sta per salire. Anche i Seekan. Allora, io allenerei un attimo senior, sinceramente. Facciamo questo. Toglierei un allenamento a Weir. Sì, dai. Togliamo la Weir e diamolo. Credo sia arrivato il momento di allenare anche un po' Johnston, ragazzi. Fammi vedere un po' qualche dato. Posizione di attacco, finalizzazione, passaggio corto, potenza tiro. Buono questo. Buonissimo. Li vado a fare, ragazzi. Perfetto, signori. Molto bene anche questi allenamenti. Purtroppo non sale nessuno. Ma ci andiamo molto vicino. E considerato che, dopo questa partita si conclude il mese di settembre, probabilmente, degli overall saliranno. Allora, chiudiamo questa maglietta. A loro. E andiamo a fare un po' di cambietti, sinceramente, quest'oggi. Fuori Scott. Dentro Seekan. Poi facciamo giocare Longstaff al posto di Ferguson. Sulla destra. Teniamo Lawrence. No, lo spostiamo sulla sinistra. Fare giocare al posto di I.K. Un pochettino Mattinia, giusto per non farlo deprimere. E ci portiamo dietro qualche giocatore che magari vede un po' meno il campo. Tornata a fare i mur. Perfetto. Ma sapete, ragazzi, che al posto di Woodman provo Ethan Davis? Dai. Proviamo Ethan Davis. Andiamo in campo così, dunque. Sempre sul pezzo. E forza Colchester. Un po' di turnuvero ogni tanto ci sta. Sabby. Seekan. Eccolo Lawrence. Passa dal centro dove c'è Sabby. Che riesce ad andarsene. Attenzione. Sabby. C'è l'inserimento di Seekan. Servito. Mamma mia, Seekan. Tieli questo pallone. Te prego. In qualche modo. Invegliati qualcosa. Bellissima per Lawrence. Al centro c'è Sabby. Borner. Che chiusura. Era bellissima l'idea. Stevenson la mette in mezzo. Attenzione. A Palmer. Seekan colpisce. Non va. Buona palla recuperata da Longstaff. Sabby ha tagliato senior. Palla di ritorno per Sabby. È tutto buono. Seekan. È buona anche questa. Finalmente Katnissenior. Finalmente Katnissenior ci porta in vantaggio. 1-0 col Chester. Bella palla. L'abbiamo allenato un secondo fa in finalizzazione. Se non sbaglio. E subito. Sul fine del fuorigioco. Riesce a sbloccare il match. Questa volta veramente molto preciso. Ottimo anche l'assist di Seekan. Bel destro sul primo palo. Battuto il portiere del Sheffield. Finisce quel primo tempo ragazzi. Direi. Ho visto adesso Ethan Davis. Fate voi. Una sola squadra in campo. Lo Sheffield per il momento ha poco da dire. Per il momento. Aspettiamo. Aspettiamo novità diciamo. Perché presto usciranno fuori. attenzione al Sheffield. Che forse. Forse si è svegliato. Proprio adesso. Ma c'è Mattinia. Non è il momento di svegliarsi. Secondo Mattinia. Secondo Longstaff. Forse sì. Sbaglia questo passaggio. Un passaggio elementare. Occhio a Palmer. Atkinson. Ries. Ancora Atkinson. Ancora Mattinia. E finalmente Ethan Davis. Che si appoggia a Seekan. Longstaff. Stevenson. E il Colchester prova ad uscire. Ma adesso lo Sheffield è veramente ben messo in campo. Stevenson. Senior. Troviamo un varco importante. Troviamo un varco molto importante. Raga devo cambiare Sabby. Devo cambiare assolutamente Sabby. Metto Clark Harris. Non è vero. Metto Johnston al posto di Sabby. Troppo stanco Sabby. Non può giocare tutte le partite. Anche Senior fuori. Dentro Asanalli. Attenzione qui Portius si addormenta. Ma c'è Wood. Mamma mia. Che coppia ragazzi. Che coppia difensiva. Se uno sbaglia. L'altro gli copre le spalle. Johnston. Per Asanalli. Attenzione subito i nuovi entrati. A fare del devasto. Asanalli. Asanalli. Entra in aria. Asanalli. La copre. La protegge. Dove c'è Johnston. La palla passa ancora Johnston. Il portiere però dello Sheffield. Attento. Attenzione ancora ad Asanalli. Torna dietro da Mattinia. C'è Stevenson. Ora il Colchester vuole chiudere la partita. Johnston. Come si è girato. Ma se l'allunga. Ma porca boia ragazzo. Johnston. Eccolo ancora Asanalli. Prende il tempo a tutti. Mamma mia Asanalli. Però la partita in corso. E' tanta roba. Ancora Asanalli. Può metterla in mezzo. Ma no. Ma no. Vecchio mio. C'era Sican da solo. Adesso lo togliamo e mettiamo Big Noob. Mattinia. Per Big Noob. Di tacco per Johnston. Attenzione. A Lawrence. Che prova a farla tornare da Big Noob. E finisce qui ragazzi. Il Colchester batte. Lo Sheffield. 1-0. E torniamo alla vittoria in campionato. Ammazza che cappottino. Ma chi te l'ha dato questo? Io non l'ho mica scelto per te. Decisamente ragazzi. Solo noi. Solo noi. Ethan Davis non ha fatto una parata. Mi dispiace per lui. Ma d'altronde questo è. E finisce settembre. Ragazzi. Finisce settembre. Abbiamo Portius e Mattinia. Impegnati con le nazionali. Gli altri no. Per fortuna. Che abbiamo qua di resoconto. Sempre il nostro Alfie. Due robe importanti. La prima è. Per quanto riguarda gli overall. È salito Stevenson. Mi sa. E non Senior. Mi sembra sia salito Wood anche. È salito Woodman. Sicuramente. È salito Johnstone. Sicuramente. Ma no. Johnstone era già salito. È salito Ethan Davis. Mi sa. Ed è salito Seacan. Ottimo. Buonissimo. Buonissimo. Veramente. Adesso abbiamo la partita contro il Bristol. In casa ragazzi. Guardate l'importanza di questa partita. Siamo un punto sotto al Bristol. Per questo andiamo in campo con questa formazione raga. La partita è troppo importante. C'è Anderson in difesa centrale. Ma io. Ma per quale assurdità. Ware. Dove sta Ware? Dov'è Ware? Ware. Eccolo. Dentro in campo Ware. Forza signori. Sempre sul pezzo. E forza Colchester. Scott. C'è Sabby. C'è inserito Sabby. Attenzione. Col destro Sabby. Mamma che parata di Bentley ragazzi. Poi che cosa è successo lì? C'è schiantato Johnston. Ha provato a fare una rovesciata. Senza riuscirci. Sinanagi. Di tacco per Suarez. Chi se l'alza? Ma ha fischiato rigore ragazzi. Ha fischiato rigore. Il pallone era uscito. Ma io non ci voglio credere. Io non ci voglio credere. Io non ci voglio credere. Io non ci voglio realmente credere. Ma poi che rigore è? Ma ragazzi. Ma che rigore è? Io sono. Senza. Io sono realmente molto basito. Cioè. Cioè. Guardate. Il pallone era fuori. Ma quando è stato fischiato sto rigore? Io vorrei sapere. Mi dite che rigore è questo poi. Ma. Quanto Woodman parla anche questo. A success. Godo. Ma quanto Godo. Ma perché non fu... Ma è uscito il pallone? No. Aspetta. Scusatemi. Perché non hanno continuato? È uscito il pallone? Mi fai vedere? Ah. Ok. È uscito. Mannazze. Diavo io. Se ne sabbi. Incrocia di nuovo sabbi. Questa volta non sbaglia. E finalmente torna il gol. Su assist di Scott. Gol mangiato. Gol subito. Guardate qua. Che bel filtrante. La controlla molto bene. E batte così il portiere. Che prima. In precedenza. L'ha fatto realmente un'ottima parata. Veramente un'ottima parata. Ma chi è questo Suarez qua? Guardate come si muove. Mi sembra... Ma cosa? 5 stelle skill. Attenzione a Morrell. C'è Ware però in chiusura. Ancora Woodman che chiude. Su Suarez. Che ci sta veramente facendo penare oggi. Sabbi. Ecco. Mamma mia Ware. Dopo che con Portius è riuscito così così. Stevenson non riesce a tenerla in gioco. Il Bristol sta spingendo realmente molto forte. Ma c'ha una squadra molto forte. Cavolo. Success. Nagy. Occhio a Suarez. C'è il palo. Chi l'ha preso? Nagy? O qualcun altro? Non lo so. Finisci con il primo tempo ragazzi. Siamo avanti 1-0. Non so sinceramente come. Perché il Bristol è mostruoso. Veramente molto forte. Veramente veramente molto forte. Come potete vedere però... Non si segna tantissimo in generale. Mi sembra di capire. Più o meno le partite sono sempre così. 1-0. 2-1. Non ci sono mai. È molto equilibrato diciamo come campionato la championship. Magari mi sbaglio. Sono presentimenti che ho per questi primi mesi. Bravo Stevie. Che guerriero cavolo. Sabbi. Scott. Si gira molto bene. Aspetta l'arrivo di Poku. Servito. Poku. La palla per Sabbi. Attenzione. Sabbi se ne va. Sabbi. Sabbi. Al centro c'è Scott. Servito. James Scott. Finalmente anche lui. È la partita perfetta. È la partita perfetta. Che bella azione. Si sono trovati alla grande. Che crossettino di Sabbi. E da lì ovviamente Scott non può sbagliare. Ma finalmente James Scott raga. Finalmente James Scott. Primo gol in championship per lui. Si è sbloccato raga. Allora signori faccio il primo cambio direi. di oggi. Farei entrare. Ma no. Io farei anche il secondo cambio. Longstaff e Asanalli. Fuori Stevenson. E Poku. Sempre che ci regalano il pallone. Scott col destro. Dopo l'appoggio di Ware. C'è ancora Ferguson. Johnston. Prova ad appoggiarla. Sabbi. Ma ancora Johnston. Ma è lo stretto Johnston. Quanto è forte. Mamma mia raga. Ha provato anche il destro. Ma è stato bloccato. Io farei anche l'ultimo cambio ragazzi. Toglierei Johnston. Metterai Lawrence. Così almeno Lawrence può battere questa punizione. Che è molto pericoloso. Purtroppo Anderson. Non l'ho. Non l'ho portato. Ma anche Lawrence ha dalle buone caratteristiche. Come possiamo vedere da qua. Anzi forse. Addirittura i migliori di Anderson. Ma che. Ma che misteri di. Ma che misteri di. Cioè. Sono senza parole. Sono senza parole. Sono senza parole. Ma cosa minchia è successo. Sono a Bristol. Success. Portius su di lui. Intervento pulito. Perfetto. Preciso. Di Portius. Che fa ripartire Longstaff. Scott. E Lawrence. Appena entrato. L'ora si può correre. È fresco. La controlla. Bene. Longstaff l'allunga per Sabbi. Se la mette sul mancino Baker. Che chiusura. Anche lui. Pulita. Perfetta. Ma ci siamo ancora noi. Oh la la. Finisce qui signori. Finisce qua. Vinciamo 2-0. Contro il Bristol. Non l'avrei mai detto. Bristol squadra. Fenomenale. Realmente. E chiudiamo l'episodio. In una maniera. Molto. 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 Importante. Raga. Questa è una vittoria. Veramente. Veramente. Fondamentale. Per il proseguimento. Della stagione. Andiamo a vedere i dati. Sicuramente la coppia va davanti. Molto bene. Per il resto. Bene Weir. Veramente. Molto. Molto. Bene Weir. Vediamo un attimo. Raga. Com'è adesso la situazione in classifica. Io direi però. Che posso chiudere qua l'episodio. Ma il Preston. Da quando ha battuto noi. Non vince più mezza partita. Adesso siamo messi così ragazzi. Siamo. Noni. A 22 punti. A pari punti col derby count. E il Fulham. Che ci ha battuto. Il Fulham ci ha battuto. Ed è per quello che è avanti a noi. Fatemi vedere un po' anche i gol fatti. 13. Gol subiti 7. Siamo la migliore difesa ragazzi. Siamo la migliore difesa. E sinceramente lo sto notando. La difesa molto molto bene. Volevo andare a vedere però. La squadra. Del Bristol. Sinceramente ragazzi. Perché. Mi ha stupito parecchio. Allora. Non tanto Brownill. Anche se. Anche se. Quasi quasi. Lo facciamo seguire anche lui. Mi è piaciuto molto. Anche Giai da Silva. Facciamo seguire anche lui. Luis Javier Suarez. È lui. Finalizzazione. Non me lo dici. 62.76. Mettiamolo a seguire dai. Bene ragazzi. A questo punto io vi saluto. Faccio gli allenamenti per conto mio. E ci vediamo nel prossimo episodio. Dove finiremo ottobre. Quindi nel prossimo episodio. Faremo 5 partite. Partite. Bisogna iniziare ad andarci. Parecchio. Giù pesante. Spero che questo video vi sia piaciuto. Decisamente positivo. Noi ci vediamo nel prossimo video. Lasciate un piaccio. Commento così. Alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.